Ma alla RAI ci torni o no? Perché io ho assistito a un tuo spettacolo per beneficenza, per la serata del Fatebene Fratelli. Ero lì, come no? Ero una fila dietro Mario Orfeo, l'hai tempestato per tutto. Allora, a proposito di Mario Orfeo, volevo dire che ieri, io sono a Milano, ma mi hanno detto che ieri c'è la guarda ai finali. Eh, è andata alla Maggioni, è andata alla Maggioni è andata. No, ma hanno aperto, sai che hanno fatto? Hanno aperto tutte le stanze della RAI per trovare documenti. Che hanno trovato. Hanno aperto uno sgabuzzino e c'era Massimo Giletti dentro. L'hanno chiuso dentro. No, però, però torni alla RAI, dacci qualche ragguaglio su. Guarda, ci sto pensando, ho fatto già un mezzo passetto indietro rispetto a quello che avevo detto a Orfeo. Eh, perché? C'è qualcosa che non ti convince? Perché è nel mio carattere. Poi in certo modo mi viene l'ansia, mi comincia a venire un po' di psoriasi, poi comincio a trattarmi la testa, poi comincio, capito? Perché le sono tutte le mie raggi. Dico, ma chi me lo fa fare? Poi vado lì, poi cominciano, ah beh, mi aspettavo di più, poi l'ascolto. Quella cosa io ci penso e dico, ma io sto su Facebook, sono nella stanza dei mi piace, ma che me frega a me. Che me frega a me della RAI. Però magari cambio idea, cambio idea.